Buon appetito, amore! Amo, mi raccomando, mangia pi... Ma già è finito? Amore, che era? Ma come che era? Era un piatto pieno! Mangi troppo veloce! Eh, lo so! Ma ti fa male, no? Guarda che questo è un problema serio, eh! Lo sai quante persone come me hanno questo problema? Solo che i giornali non ne parlano! Sì, è giornale! Tu ti strafuoci a vestire a parlare il giornale! Tu, amore, devi assaporare! Vedi, guarda! Gustare! Distinguere ogni ingrediente! Così si mangia! Aspetta che vado a prendere un pezzo di pane, eh! Mamma! Segui le avventure di Momo e Kika! Lascia un like al video e condividi! E soprattutto iscriviti ai nostri canali! Siamo su TikTok, Facebook, Instagram e YouTube! Andava bene, amore? Anche meno, lo so! Anche meno!